Ciao amici, bentornati al nostro appuntamento. Anche oggi vedremo Tabata. Quindi faremo due circondi, ciascuno da riparere due volte, composti da quattro esercizi. Ogni esercizio della durata di 20 secondi, con 10 secondi di recupero tra uno nell'altro. Oggi ci concentreremo sulla parte superiore, quindi braccia, spalle, dottali, precini e bicini. Iniziamo. Pronti per il più esercizio? Vado a terra. Grazie a te, si trovi a te, e cinque, e schiaccioli. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondi di recupero, secondo esercizio, mani aperte verso i suoni, centro a terra, braccia, vedete? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondi di recupero, secondo esercizio, mani aperte verso i suoni, centro a terra, braccia, guardate le ginocchia, guardate le ginocchia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondi di recupero, secondo esercizio, mani aperte verso i suoni, centro a terra, braccia, guardate le ginocchia, 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 guard vedete e apriamo il braccio e ciò resta tre secondi e arriviamo tutto iniziamo con i pesetti piego le gambe bracciati avanti e porto dietro con gli stretti schiovanizzati e sposto i pesetti vado a terra e portando i pesetti mantieni spalle oltre le mani e spiegamenti ai tricini e atel recupero portanti agli riprendi i pesetti o le portinghe braccia di te alle orecchie e piego esterno mi raccomando, espiro un po' di l'aria la cosa da su recupero 10 secondi recupero 4 secondi a terra vado giù pancia a terra e braccia piego avanti e dietro e stop recupero 10 secondi e rivediamo tutta una seconda volta e anche per oggi ci sono le mani mi raccomando ragazzi fatevi sapere come vi trovate continuate a scrivermi dubbi alimentazione consigli sugli esercizi da fare sono a vostra disposizione si fa quel che possiamo mi raccomando andrà tutto bene ma continuate a rimanere in forma grazie a tutti grazie a tutti